Ma allora intanto questo è il parcheggio più grande che abbiamo, che chiamiamo Dove siamo adesso? Il parcheggio Ovest? Sì, qui siamo un po' lontani però abbiamo il servizio di navetta c'è la scorciatoia per arrivare in fiera e l'apriamo quando siamo proprio pieni come oggi insomma E su per giù? Quanto può tenere? Qualche migliaio, più di 2000 macchine E questo non è l'unico parcheggio no? No, questo è di riserva, non è bello parcheggiare qua perché sembra di essere lontani ma ci sono le navette e poi se non c'è posto altrove I più gettonati quali sono i parcheggi dove è meglio parcheggiare insomma? Al sud, entrando dalla via Emilia, il parcheggio è più vicino però dipende anche dove parcheggi Mentre l'est? L'est è solo per chi lavora e per i volontari, qua ci sono fuori i nostri ragazzi Adesso andiamo verso la rotonda Ovest, da dove si smista la gente o nei parcheggi adiacenti alla fiera Se c'è posto oppure qui, incoraggiandoli, non avete idea di quanti malati falsi ci sono E insomma, se c'è posto non c'è Insomma, infatti è da chioccia Esatto Poi noi nei nostri giri, io e spanish Eccolo qua Giriamo, risolviamo i problemi, i nostri ragazzi qua sono bravissimi sotto il sole Allora partono con l'acqua ma poi gliela portiamo perché insomma ha un sacco di caldo Eccolo qua Ciao Ciao ragazzi La stampa? L'avete vista la stampa? Qua? Mi stampa Vieni a salutare Ti fa servizio su YouTube, mica scherzi Dai un saluto Ciao